Al quinto posto, abbiamo la Overtime. T75 tra i no. Vuoi acquistare un Overtime ciclonico super leggero con una grande abilità? Dopodiché Overtime ha tutto ciò che stai cercando, non cercare più. Mille grazie alla sua straordinaria capacità di 3,5 litri puoi dire addio al requisito di svuotare il contenitore dopo ogni pulizia. Inoltre, con un peso di soli 6,3 kg, questo modello è tra i più leggeri sul mercato. E non è tutto. La straordinaria tecnologia Power Silent System consente all'aspirapolvere ciclonico un'emissione sonora equivalente a 66 dB, tra i migliori silenzi sul mercato. L'intensità di una conversazione tipica equivale a 60 dB, l'aspirapolvere non sarà certamente molto più frustrante di una normale conversazione con un amico. La possibilità è potenziata dalla speciale tecnologia Sfere, il motore e tutti gli elementi sono aldoggiati all'interno di una sfera che aderisce all'utente ovunque senza rovesciare. Adatto anche alle ragazze più grandi che hanno qualche problema nel passare un'aspirapolvere regolare per l'intera residenza. Al terzo posto, abbiamo la Roventaro 3753 EA Compact. Abbiamo l'articolo migliore anche per te, che non vuole rinunciare alla pulizia professionale ma non intende investire così tanti soldi in un aspirapolvere multiciclonico. Presentando Roventaro 3753 EA Compact Power Ciclonic, non scoprirai più over economico con le stesse prestazioni. Ti riveleremo un aspirapolvere ciclonico da trovare. La sua peculiarità è l'esclusiva innovazione e fitec motor di generazione più attuale, una tecnologia nel campo dell'efficacia energetica. Questo design garantisce la massima potenza di aspirazione per un consumo minimo di energia. Al numero 2, abbiamo il Roventaro 7681 EA Silencie. La nostra scelta come il miglior aspirapolvere vorticoso per un valore in denaro è semplicemente lui, Roventaro 7681 EA Silencie Force Ciclonic 4A, il futuro degli elettrodomestici di famiglia alla portata di tutti. Con un costo equivalente praticamente alla metà di qualsiasi altro aspirapolvere vorticoso nella sua gamma di alta qualità, si qualifica come uno dei migliori investimenti finanziari che puoi fare. Questo modello è un elettrodomestico completamente innovativo. La sua vera particolarità è il silenzio, produce un rumore corrispondente a 67 dB, un po' più forte di una normale conversazione. La diminuzione del rumore, tuttavia, non suggerisce una minore potenza di aspirazione, le spazzole registrano il 99,98% della polvere in ogni stanza della tua casa. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il Dyson Cinetic Big. Stai cercando l'aspirapolvere multiciclonico più efficace del 2020 sul mercato? Allora Dyson 22840901 Cinetic Animal Pro 2 fa per te. Scopri perché ha diritto al primo posto nella nostra scelta. La forza di questo elettrodomestico è senza dubbio la spazzola turbo anti-groviglio. La sua struttura innovativa e integrata con l'innovazione Dyson Cinetic ti aiuterà sicuramente a dimenticare i filtri detergenti e le borse per tutta la vita. Questa incredibile tecnologia moderna, in realtà, ha la capacità di rilasciare i capelli. E micropolvere direttamente nel cestino, evitando che si incorpolino la turbina eolica. Dyson è composto da quattro vari altri pennelli speciali nel piano, che consentono di purificare qualsiasi tipo di impostazione all'eccellenza. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come e condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri. Grazie per aver guardato il nostro video.